Ragazzi, buona serata a tutti, allora, Pairetto, partiamo un attimo dall'arbitro, perché Pairetto è il classico arbitro che farebbe incazzare qualsiasi tipo di giocatore, è un arbitro veramente penoso, cioè, ha il sole, che poi da zone ragazzi, poi dicono eh ma lo streaming, ma da zone va veramente una merda ragazzi, cioè, soprattutto per le partite in Italia, perché le partite tipo della Liga, Atletico Madrid, a parte due interruzioni, si vedeva bene, non si vedeva bloccato ogni volta, quindi invece va a tratti e a scatti, cioè, io non so, vabbè, comunque a parte questo, Pairetto purtroppo è un arbitro, è un arbitro che ha tenuto il suo stesso metro di giudizio per tutta la partita, ma un metro di giudizio veramente vergognoso, perché non si può munire per ogni fallo che si commette, madonna da zone ti spacco il culo, è finita intanto la partita, non si può, cioè, non si può vedere un arbitraggio del genere ragazzi, non si può assolutamente, perché calcio è calcio, ok, i contatti, i contatti ci sono, vedere certi falli fischiati, certe munizioni date, l'espulsione di Pellegrini poi, che poi tra l'altro molti mi dicono, ma sto Pellegrini perché non lo prendiamo, perché è un giocatore mediocre Pellegrini, è venuta che lo esaltiate tanto, un giocatore che per me è veramente forte e ha tanto potenziale è Bougat, Bougat è veramente tanta tanta roba, ma un giocatore, se sei bravo e capisci un po', poi, per carità, ci sta che poi deluda, che poi faccia schifo, ok, negli anni successivi può capitare, però un giocatore lo vedi subito se ha la giocata, ma non è che deve avere la giocata di qualità e basta, deve avere la giocata di qualità in tutte le condizioni, nello stretto, nello spazio, le triangolazioni con i compagni, i movimenti senza palla, la velocità, la visione di gioco, c'è il sito e la personalità soprattutto, situazioni che se sono tutte in un giocatore, capisci che quel giocatore potrebbe veramente diventare importante, se non sbaglio comunque è di proprietà del Chelsea, è in prestito a Sassuolo, però un piccolo pensierino, per il post costa io lo farei, lungo nascosto ovviamente. Come per il resto ragazzi, una partita, sì, da esterno bella, però la Roma ha dimostrato che nel primo tempo se non entri in campo con la giusta testa perde, perde e questo sta a dimostrare che anche la partita in Coppa Italia, che Sarri ha detto, è stata la migliore partita nostra come condizione fisica, però bisogna anche dire dall'altra parte che abbiamo avuto una Roma contro, che non ha azzeccato l'inizio della partita, come ha fatto oggi contro il Sassuolo, quindi purtroppo, anche se oggi siccome è stata più una condizione mentale della Roma sbagliata, che non c'era insomma. Il Sassuolo, il Sassuolo è una squadra che gioca bene, cioè gioca bene nel senso che ha dei giocatori di qualità, sia al centro campo, sia sugli esterni, sia in attacco, a parte Berardi che a me non piace, ma vabbè questo è un altro discorso, che esce da situazioni anche apparentemente molto difficili, poi nel secondo tempo si è chiuso, è ripartito in contropiede, ma è ripartito in contropiede molto bene, questo sicuramente poco da fare, poi se devo dare un giudizio sull'intensità che c'è in altri campionati e l'intensità che c'è nel nostro campionato, lì in altri campionati come quello spagnolo e quello inglese si corre per 95 minuti tutte e due le squadre. Oggi ho visto il derby di Madrid, si correva veramente, vediamo Modric che ha 35 anni, che fa praticamente il trequartista insieme a Isco se non sbaglio, usano l'albero di Natale quest'anno con Valverde e Mezzola, Modric correre dietro, rincorrere gli avversari, c'è intensità che qua veramente ci sogniamo, perché qui ormai conta molto di più la fisicità, conta di più la tattica che poi magari l'intensità e la qualità, poi, di abbinare le due cose, ovviamente. E la squadra che fa meglio questa cosa è Liverpool. Comunque, a parte questo, la Roma... Il migliore in campo della Roma io lo darei a Spinazzola, perché Spinazzola, ripeto, se Spinazzola non avesse avuto tutti quegli infortuni lì, sarebbe veramente uno dei migliori terzini. Assolutamente. Spinazzola è 10 spanne sopra Danilo e De Sciglio, ad esempio. Il problema, appunto, era la condizione fisica, ma se non avrà più infortuni... è un acquisto per la Roma, assolutamente. D'altra parte, Bruno Perez, a parte l'imboccata la di Boga, non è che abbia fatto male, anzi, ha chiuso 3-4 volte, ha fatto 3-4 volte, un'ottima diagonale, ha anche spinto molto, quindi... Poi Smalling, molto bravo, per carità. Al centrocampo la Roma è un po'... Infatti molti mi dicono, ma anche il centrocampo della Roma è superiore al nostro? Per me no, perché comunque giocano con i due, se non sbaglio, centrocampo, con Veretout, e di solito c'è Di e Varà. Adesso non mi ricordo che cacchio c'era stasera. Vabbè, poi giocano tipo con... Anzi, forse era Pellegrini, perché poi giocavano con Kluivert... No, no, no. Pellegrini forse era... Mi sembra, almeno, che abbiano giocato con il 4-2-3-1, perché di solito giocano con quel sistema di gioco, con, appunto, i 3-3 quartisti dietro a Zeko e 2 in centrocampo. Però, vabbè... Under male, Kluivert benino solo l'ultima mezz'ora, Perez per me è un ottimo giocatore, però non puoi metterlo in queste condizioni con la squadra che si chiuda, che sta vincendo, come il Sassuolo. Zeko, Malino, a parte il gol, a parte qualcosina, non è che mi sia piaciuto tanto. Per quanto riguarda il Sassuolo, molto bene Bougat, molto bene... In generale, vabbè, Caputo, molto bene anche i due terzini, molto bene un po' tutti, a parte Berardi. No, vabbè, dai, oggi Berardi ha fatto una buona partita, non eccezionale, però sicuramente buona. Questo è, questo è... Io penso che la Roma di Fonseca potrà crescere molto, solo che deve un po', come la Juventus e Sarri, solo che, secondo me, in generale, la Roma di Fonseca ha più qualità che fisicità, a differenza nostra, ok? Quindi è più funzionale all'allenatore che ha, rispetto, appunto, alla nostra squadra nei confronti del nostro allenatore. Però ha ampi margini di miglioramento, non per forza in questi mesi, ma con il progetto di due, tre anni con Fonseca. Per me la vedremo veramente bene il prossimo anno e ancora meglio il terzo anno, se, appunto, Fonseca non si fa cacciare prima, ecco. Vabbè, questo è quanto, ragazzi, io vi auguro buona notte a tutti, domani c'è Juventus-Forentina, mezzogiorno e mezzo. Sembra comunque fino a fine forza di Juventus e speriamo che Dazon non faccia e non rompa il cazzo, ecco. Buona notte a tutti.